Il no ha vinto e le province, insieme alle altre poltrone che il premier Renzi voleva tagliare, restano invece saldi sui propri territori. A sottolinearlo il presidente della provincia, Antonio Di Marco, che tuona ora sarà chiaro a tutti che questo ente deve restare esattamente dove si trova. Il referendum al quale il PD, sappiamo a livello nazionale, a livello regionale e provinciale, ha aderito votando il sì, evidentemente non ha colto il pieno consenso degli italiani. Adesso non è che gli italiani si siano espressi province sì, province no. Hanno dato un giudizio in toto sulla propagazione di alcuni articoli della Costituzione. Evidentemente sulle province, io scherzosamente dico, oramai è chiaro a tutti, non bisogna più intervenire alla loro soppressione, perché ci hanno provato tutti e nessuno ci è riuscito. I tagli che abbiamo subito sono stati eccessivi. E qui parliamo di dover ristabilire una cifra non inferiore a 6 miliardi di euro per le province italiane, perché solo così noi torneremo a svolgere pienamente le funzioni a noi assegnate con la legge del Rio. Come ci ha detto Mattarella a gennaio, quando l'abbiamo incontrato al Quirinale, non può non tener conto il governo del fatto che se le province rimanevano, e così come oggi nella Costituzione, hanno bisogno di essere sostenute dal punto di vista finanziario. Sulle polemiche in capo al governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso accusato di aver speso molta energia accanto all'attuale presidente di missionario, Di Marco, alla luce della salvezza delle province, commenta così. Una cosa è il referendum, il risultato, una cosa è il governo della regione, come il governo dei territori comunali. Vedremo adesso con il nuovo governo quale sarà la connessione, quella sì che è necessaria per questa regione, la connessione politica funzionale alle strategie che il governatore ha messo già in piedi finora e che dovrà evidentemente implementare e semmai essere queste strategie ulteriormente sostenute dal governo nazionale. Su questo lavoreremo tutti quanti insieme al lavoro che sta facendo anche il presidente della regione.